Cari telespettatori, bentornati in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino, esattamente la terza di questa nuova stagione che oggi vogliamo dedicare al Comune di Cantiano e al suo Sindaco Alessandro Piccini. Bentornato nei nostri studi Sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Vi ricordo, come sempre, che potete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33. Potete inviarci anche un breve messaggio di testo sul numero che vedete in sovrimpressione, quello di WhatsApp 338 49 68 250. Sindaco, inevitabile parlare della luvione. Un anno dopo Cantiano si è sicuramente rialzata, ma rimane ferita. Cominceremo a parlare dopo anche dei vari lavori, degli interventi realizzati, quelli che ancora devono essere realizzati, ma dal punto di vista economico qual è la situazione e quanti ristori sono stati erogati? Sì, ecco, hai detto bene. Cantiano, fortunatamente non è più quel Cantiano di un anno fa. Io lo definirei un Comune ormai ex alluvionato, in cui si è dimostrata la tenacia, tutta quella tenacia che pensavamo avessero e poi lo hanno dimostrato i nostri concittadini, nel nostro attività di impresa. Oggi Cantiano è completamente ripartito, avevamo 60 attività di impresa compromesse che oggi sono al 100%, quasi, alcune nei prossimi settimane vedranno di nuovo la luce, quindi sono tornate operative. Però è chiaro che oggi chi lo ha fatto, lo ha fatto contando sulle proprie forze, sui propri risparmi, sull'accesso al credito, su quella solidarietà, quella grande solidarietà che ci ha sorpreso, ci ha commosso, ma ci ha anche supportato in quei primissimi momenti in cui c'era in gioco il futuro del Paese e questa vicinanza e la disponibilità a contare anche su risorse concrete, aggiuntive, per il tramite di una raccolta fondi che aveva promosso l'amministrazione comunale, che poi ha dato i suoi frutti, sono stati quei meccanismi che ci hanno fatto riorientare in un primo momento, poi sfruttando anche il meccanismo imitativo di una riapertura dopo l'altra e oggi Cantiano è tornato completamente fruibile, le sue attività sono completamente riaperte, tra l'altro chi ha riaperto è riaperto meglio di prima, con locali rinnovati, commercialmente più propositivi, solo è chiaro che ormai a più di un anno di distanza bisogna che il pubblico, le istituzioni facciano la propria parte e soprattutto anche per ridare a chi ha anticipato una qualche forma di sostegno. Noi al momento abbiamo distribuito poca cosa rispetto ai danni subiti, abbiamo messo a terra i primi ristori di 20 mila euro massimo per l'attività d'impresa e 5 mila euro massimo per le abitazioni private, una cifra importante di oltre un milione e mezzo di euro ma che spalmata sulle tantissime casistiche di Cantiano è poca cosa rispetto a quello che servirebbe. È in corso una seconda fase di ristoro in cui si stanno censendo attraverso perizie asseverate di tecnici i danni effettivamente subiti sui modelli precedentemente utilizzati per i censimenti e su questo la struttura commissariale per il tramite della Regione Marche individuerà una percentuale di ristoro. È chiaro ci sono ancora dei vizi di forma, delle problematiche burocratiche che vanno sorpassate per agevolare e accelerare la messa a terra dei ristori, ecco noi contiamo che le nostre istanze vengano accolte e reso più facile questo meccanismo di ristoro a privati cittadini e di imprese. Speriamo il prima possibile Sindaco perché ormai è passato più di un anno quindi anche tutti coloro che hanno dovuto anticipare queste risorse immagino che sia stato veramente difficile. Il problema è questo, tra l'altro viviamo in un paradosso, il nostro proprio dell'alluvione del settembre 2022 che paradossalmente conta già su delle risorse che sono state stanziate a livello governativo ma che faticano ad arrivare a terra. Quindi io credo che ecco questo nostro appello, queste nostre richieste che stanno diventando ormai delle pretese perché poi la gestione di una comunità che insomma vede dopo mesi quindi dopo più di un anno le questioni ancora legate a quel meccanismo burocratico di rimpallo di responsabilità chiaramente non tollerano più che certe situazioni vengano rimandate soprattutto quella legata alla messa in sicurezza del nostro territorio perché capirete che chi ha riaperto, chi è rientrato nelle proprie abitazioni mettendo mano ai propri risparmi non può ecco avere quella preoccupazione che possa riaccadere quello che è successo. Quindi la messa in sicurezza del territorio oggi ha oltre... Il rischio c'è. Il rischio è lo stesso di un anno fa. Ad oggi è più di un anno, nessun intervento di mitigazione del rischio è stato fatto e quindi ecco credo che rispetto a queste richieste dei cittadini sia nostro compito mi ci metto anch'io essendo però l'ultimo anello istituzionale quello più debole dal punto di vista sia della struttura tecnico-amministrativa che della disponibilità di risorse però dobbiamo dimostrare che in questi momenti lo Stato sappia fare lo Stato. E anche lei ha fatto in questo anno la sua bella battaglia. Ha parlato prima di paradosso e invece nelle scorse settimane ha parlato di disparità di trattamento rispetto all'alluvione 2023 perché il commissario Figliuolo ha accolto la richiesta da parte dei sindaci di mettere in campo più personale per gestire le risorse, per gestire appunto anche dal punto di vista del rischio idrogeologico la situazione. Che cosa è successo? Esatto, ecco la mia non vuole essere chiaramente una guerra tra poveri però ecco noi abbiamo sempre gestito l'emergenza al di sopra delle parti mantenendo fermi le nostre richieste sui contenuti, sulle questioni oggettive e quello che è successo credo che, insomma, desti imbarazzo imbarazzo e anche un po' di sdegno perché quello del supporto tecnico-amministrativo è una delle primissime richieste che noi abbiamo fatto alla struttura commissariale regionale perché un piccolo comune come il nostro, che è stato uno di quelli più maggiormente colpiti in termini di danni, non può caricare su un'esigua struttura tecnica e amministrativa Cantiano è un comune che ha 13 dipendenti a tempo pieno tra interni e esterni non può caricare il peso di una gestione emergenziale e la ricostruzione di un paese e quindi ecco noi abbiamo chiesto come precondizione a tutto il resto perché se oggi noi avessimo quei 50 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico per i ripristini che ci occorrono non sapremo che farci perché non abbiamo la capacità di progetto, di esecuzione delle gare, di appalto dei lavori di direzione lavori, collaudi amministrativi perché c'è bisogno di personale aggiuntivo perché poi noi dobbiamo mandare avanti l'ordinario, i bilanci del comune, le spese correnti e quindi vedersi ecco con due situazioni simili, quindi due alluvioni simili ecco due trattamenti diversi crea un po' di sconcerto perché ecco il generale Figliuolo ha stanziato delle risorse per l'assunzione solo nelle Marche solo per i sette comuni marchigiani colpiti dall'alluvione maggio 2023 tra tecnici e amministrativi, figure che saranno messe impiegabili ecco fino al 2025 senza concorsi e quindi ecco personale a disposizione giustamente di quei comuni che devono gestire un qualcosa di emergenziale e quindi è un paradosso che tra l'altro il nostro commissario delegato che è il presidente della regione Marche, Acquaroli che è vice commissario assieme a Figliuolo dell'emergenza 2023 ecco in qualche modo abbia sostenuto giustamente questo provvedimento però non lo abbia applicato sulla stessa emergenza di cui è commissario quindi settembre 2022 quindi su questo chiediamo che vengano uniformate i trattamenti ai comuni perché c'è veramente bisogno, perché il rischio è che si vada al collasso della struttura tecnico-amministrativa Abbiamo anche qualche piccola notizia positiva e chiedo alla regia di mandarmi la foto di queste due telecamere che sono state installate in piazza e che avete pubblicato sulle vostre pagine social un piccolo segnale di ripresa in tutti i sensi Esatto, stiamo attenti anche ai dettagli perché poi la vita quotidiana ha bisogno anche di segnali di normalità questa è Piazza Luceuli, quella piazza tanto cara che oggi si ripresenta così come era ma ricordo che in quella piazza il 15 di settembre il livello dell'acqua era arrivato a 2 metri e 35 Impressionanti quelle immagini Oggi rivederla così sembra ormai che sia una storia passata però va sicuro che dell'alluvione se ne è dimenticato chi non ha avuto l'acqua dentro casa o dentro la propria abitazione quindi noi guardiamo sempre con ottimismo al futuro il paese è ripartito, ormai c'è una prospettiva chiara ecco di ritorno alla normalità però non dimentichiamoci mai di quello che è accaduto perché ancora tanti tanti sono i problemi da risolvere E posizionerete anche delle fioriere? Sì, ecco, piccoli segnali perché vogliamo togliere questa cattiva abitudine anche di utilizzare questa bella piazza come parcheggio quindi cercheremo di incentivare con piccole misure di decoro urbano questa consuetudine poco edificante di utilizzarla come parcheggio anche perché abbiamo tanti problemi a Cantiano ma non certo quello del parcheggio abbiamo delle zone centinaia di posti a 20 secondi dalla piazza a piedi quindi insomma iniziamo a parcheggiare bene dove c'è posto e lasciamo questa bella piazza allo sguardo e ai turisti che ci faranno visita Si pensa, Sindaco, anche alla ripavimentazione del centro storico? Sì, esatto, un progetto importante perché non abbiamo abbandonato l'ordinario questo è un bando, forse è il bando a fondo perduto di importo più elevato nella storia del comune riguarda la ripavimentazione del centro storico oltre un milione di euro di intervento è già stato espletata per il tramite della provincia la gara di appalto, si è individuata la ditta e quindi ecco i primi, ormai rimanderemo l'inizio dei lavori ai primi mesi del 2024 quindi un altro intervento di decoro urbano sarà in linea anche con i futuri progetti di riqualificazione e ripavimentazione anche di quelle vie colpite dall'alluvione quindi le principali insomma esatto, il centro storico e quindi cogliamo anche l'opportunità magari non solo di riaggiustare quello che si è rotto ma anche migliorare anche dal punto di vista del decoro urbano il cuore del paese Prima di passare alle altre tematiche vorrei anche far rivedere se ce l'abbiamo le immagini che abbiamo girato non ricordo, ah esattamente il 15 quando è stata riproposta una festa con un mega concerto tante persone che appunto anche gratuitamente hanno suonato e cantato per riportare persone a Cantiano ma anche nel segno della solidarietà un cuore nel fango Sì esatto, ecco questo evento che abbiamo voluto ridonare alla comunità cantianese proprio a un anno di quella da quel tragico 15 settembre restituendo parte di quello che ci è stato dato questa rete di solidarietà che ecco ci è stata vicina volevamo festeggiare ecco la ripartenza del paese perché sarebbe potuto andare diversamente con quello che è accaduto sia in termini di vite umane e questa è la fortuna più grande che abbiamo avuto ma anche in termini di ecco ritorno a una prospettiva verso il futuro perché avere il 70 per cento del tessuto socio economico del paese compromesso avrebbe potuto significare anche la morte dell'economia del paese quindi la residenzialità e la mancanza di prospettiva futura questo evento è stato un evento di festa che ha seguito invece un evento il venerdì prima istituzionale con tutta la filiera di governo per fare una fotografia dell'esistente e insomma è stato anche una sorta di ritorno virtuale da quella piazza in cui si era partiti ricordo che con il cuore nel fango è proprio un evento che si era svolto qui a Fano nella Rocca Malatestiana a ottobre del 2022 attraverso la Caritas il comune di Fano e abbiamo voluto riportarlo al luogo d'origine quindi ringrazio anche nuovamente il comune di Fano la cittadina di Fano che è stata una di quelle città quindi di quelle grandi città che ci è stata più vicino in questa difficile fase che abbiamo attraversato dalla musica e la solidarietà ai cavalli perché è ritornata con un grandissimo successo la fiera esatto 15.000 presenze reali nelle due domeniche di ottobre complice anche il bel tempo abbiamo avuto un successo oltre ogni aspettativa un segnale di fiducia inevitabile un evento difficile non scontato da mettere in campo in queste condizioni in cui il paese si trovava e si trova ancora però credo che sia dal punto di vista promozionale che di ricaduto economico reale sul paese ecco eventi come questo diano quella fiducia e quell'iniezione anche di sostegno concreto al futuro del paese ormai Cantiano Fiera Cavalli è diventato un evento non solo nostro ma un evento regionale ha forte attrattività e noi abbiamo scelto e sostenuto questo evento che dovrà caratterizzare in futuro proprio il marketing promozionale del paese che dovrà svilupparsi su due asset strategici uno quello storico-culturale legato alla turba e l'altro appunto al cavallo Fiera Cavalli che vogliamo riproporre in modalità leggermente diverse nelle due stagionalità mantenere ad ottobre l'evento classico e lanciare come abbiamo già fatto una volta dopo il covid con un successo enorme l'edizione primaverile di Cantiano Fiera Cavalli introducendo questa è l'idea di quest'anno una novità il primo festival del turismo sostenibile ovvero di creare attorno al cavallo che è il fattore attrattivo la nostra idea di turismo quindi insistere su quegli asset strategici del bike del trekking del turismo equestre come eventi eventi valorizzanti e attorno ai quali creare un'economia reale e di attrattività non solo in quelle giornate ma durante tutto l'arco dell'anno su Cantiano e su tutto il territorio mi corregga se sbaglio ma questo credo che sia l'unico evento che valorizzi veramente il cavallo del Catria sì l'unico evento a livello regionale e ripeto quest'anno tra l'altro abbiamo avuto anche il supporto e il patrocinio del Masaf quindi dell'ex ministero dell'agricoltura che credo sancisca anche il valore di questa manifestazione che è l'unica manifestazione in Italia in cui si svolge in un contesto di alta qualità ambientale come quello più di un ettero alle pendici del Monte Catria ed è forse questa la nostra fattore vincente rispetto a tante altre fiere di settore che si svolgono dentro padiglioni fieristici sanità cultura eventi emergenza idrica ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in diretta insieme al sindaco Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Cantiano Piccini rimaniamo in tema di eventi perché vorrei far vedere una fotografia dettaglio del nastro della 58esima fiera del tartufo di Acqualagna anche lei c'era lo vediamo alla destra di questa fotografia un evento anche se in un comune appunto vicino può portare dei benefici anche per il vostro comune e per il territorio provinciale in sé assolutamente ecco Acqualagna fiera tartufo è ormai un evento internazionale che va ben oltre i confini del singolo comune ma parla e racconta di un intero territorio quindi credo che proprio questa sinergia questo linguaggio comune per presentare un territorio sia la forza vincente di queste nostre aree interne che costruiscono attorno alle proprie singole eccellenze un racconto che sviluppa e promuove il territorio durante tutto l'arco dell'anno tra l'altro Acqualagna quest'anno si è pregiata della presenza del Premier Meloni quindi credo che ecco sia anche un'attenzione governativa alle nostre situazioni anche agli asset strategici di investimento che questi territori montani dell'entroterra hanno bisogno quindi ecco un vantaggio competitivo che bisogna colmare e l'attenzione anche governativa credo che anche in questo caso dimostri vicinanza a questi territori cambiamo decisamente argomento e parliamo di sanità perché era nata una polemica intorno all'accordo per l'accesso all'ospedale Umbro di Branca una frazione di Gubbio qui però sindaco si parla di emergenze possiamo spiegare la situazione anche insomma i residenti di altri comuni che non la conoscono che cosa è successo perché se ne era parlato anche in consiglio regionale tramite Giacomo Rosse che abbiamo visto poco fa nella fotografia sì esatto ecco Cantiano come sapete è un territorio di confine non solo provinciale ma regionale ecco con la vicina Gubbio e quindi l'ospedale di Branca Cantiano per sua consuetudine qualora possa decidere già gravita sui servizi Umbri e proprio per questa sua condizione già esistente si è riproposto più di una volta perché questa proposta ricordo essere nata qualche anno fa ecco anche con colori di governo diversi dagli attuali proprio perché insomma c'è una questione oggettiva da porre all'attenzione ovvero la necessità l'opportunità che qualora si sia in emergenza il 118 possa facoltativamente dirottare sia su Urbino che in alternativa sull'ospedale di Branca così come ad esempio succede per Apecchio e Città di Castello quindi due territori di confine è chiaro che però questa non è la soluzione al problema nel senso che è una soluzione tampone rispetto a una situazione emergenziale che trova nuovamente il nostro territorio in difficoltà perché chiaramente l'idea di andare a Gubbio è perché in un bacino territoriale vicino non si trovano risposte all'emergenza urgenza cosa che ad esempio in passato i nostri territori l'avevano con l'ospedale di Cagli oggi casa di comunità e quindi la trovano nell'ospedale di Urbino con tutte le problematiche di congestione che sappiamo ecco esserci dentro quell'ospedale chiaramente con la chiusura di tutti i prontosercorsi dei tre ospedali satellite quindi Sasso Corvaro Fossombrone e Cagli quindi ecco è un'opportunità che momentaneamente l'applaudiamo e la supportiamo quindi al di là degli slogan mi auguro che si arrivi concretamente poi a una convenzione che era già stata scritta ma poi saltò per motivi ecotecnici tra le due regioni io mi auguro quindi che passa proprio per la regione esatto l'accordo tra le due convenzioni Umbro e Marchigiana quindi mi auguro che si possa portare al buon esito nell'attesa che poi magari qualche risposta dal piano socio-sanitario ecco ritutele le aree interno a vantaggio della costa parliamo invece dell'emergenza idrica intanto anche il depuratore era stato distrutto dall'alluvione giusto? esatto il depuratore è stato distrutto sono in corso in questi giorni gli interventi tampone per rimetterlo in funzione perché il paradosso ecco che abbiamo denunciato più volte è che a un anno di distanza ancora Cantiano non abbia il sistema principale di depurazione quindi tra le tante problematiche credo questa ecco sia una di quelle più importanti perché c'è in gioco anche l'aspetto sanitario della comunità cantianese però vi era stata chiesta d'altra parte una responsabilità per quanto riguarda appunto questa emergenza idrica con l'apertura del Pozzo del Burano e anche lei insomma aveva detto la sua sì ecco noi abbiamo sempre una posizione chiara su quello dell'attingimento come ultima soluzione a questo bacino di profondità che insiste sul nostro territorio Cantiano e il territorio confinante di Cagli quest'anno in particolare abbiamo rappresentato una forte contrarietà a questa ipotesi che ancora non si è resa concreta che però è ancora nell'aria purtroppo perché non sta piovendo e le previsioni non prevedono grossi precipitazioni nei prossimi giorni però questa idea di risolvere problemi drammatici come quello della carenza idrica con la soluzione più semplice ma anche quella più incerta dell'attingimento a delle acque di profondità credo che ormai sia un film troppe volte visto rispetto al quale la politica bisogna che metta in campo delle strategie di risoluzione reale di questo problema tant'è che noi come territorio delle aree interne dell'Unione Montana del Cato del Nerone avanzammo anche delle proposte che furono votate all'unanimità dell'assemblea Ato provinciale e questo ormai si tratta del 2021 in cui chiedevamo una serie di attività che nell'ordine di tempistica e di priorità potessero essere intraprese per non arrivare sempre alla soluzione finale dell'attingimento al pozzo quindi la riduzione delle perdite il 40% circa delle acque distribuita va in perdite nelle condotte idriche la pulizia degli invasi noi abbiamo l'invaso del furlo che è pieno di detriti a maggior ragione dopo l'alluvione quindi lì abbiamo una capacità persa di oltre il 50% che ci ridarebbe un'autonomia al sistema idrico provinciale di oltre 20 giorni quindi poi solo dopo approfondire con degli studi scientifici seri la possibilità di attingimento alle acque di profondità perché oggi noi anche per capire eventuali conseguenze esatto noi apriamo senza sapere quello che sta succedendo che può succedere siamo in una fase di cambiamento climatici ormai accertati non lo dico io e non è un'opinione ma sono degli dati scientifici della comunità internazionale ormai che ce lo dicono e come si può pensare di intervenire o mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici scegliendo sempre la soluzione più semplice ma quella più impattante in termini di stress sull'ambiente quindi il sindaco di tutti gli interventi che lei mi ha elencato poc'anzi non è stato fatto nulla per il momento nulla di concreto sono in corso degli studi di cui però ancora non abbiamo preso visione io mi auguro che da questi studi esca un'idea scientifica oggettiva rispetto alla quale la politica non tentenni e dia conseguente un programma conseguente che appunto metta in campo delle strategie non per noi ma per le future generazioni certo passiamo al museo archeologico anche qui c'è una bella notizia perché entra a far parte dell'itinerario di confcommercio esatto ecco la rete la rete è ciò che farà e siamo convinti che faccia la differenza quindi ecco in questi circuiti che funzionano che promuovono per il tramite delle singole eccellenze le particolarità e le bellezze di un territorio anche in questo caso Cantiano ha voluto essere in questo contenitore quindi ha aderito al circuito più ampio dell'itinerario della bellezza ecco con confcommercio che si sta declinando in azioni specifiche su ogni asset strategico Cantiano ne ha diverse di queste particolarità quindi di volta in volta si inserisce con la sua eccellenza all'interno di un quadro promozionale molto più ampio esatto parlavamo prima di turismo anche con gli eventi e questo è un altro aspetto importante su cui avete puntato esatto ecco quello del turismo Cantiano è un piccolo comune che vive anche e soprattutto di turismo l'opportunità di poterne cogliere quanto più possibile sfruttando ogni singola specificità credo che sia la soluzione vincente quindi promuovere il nostro territorio tramite i grandi eventi e destagionalizzare un flusso turistico durante tutto l'arco dell'anno sulle nostre diverse attività e iniziative Sindaco abbiamo ancora pochi minuti però volevo farle una domanda sulle prossime elezioni amministrative perché si sta per concludere anche il suo secondo mandato quanti abitanti conta? 1900 all'incirca Cantiano quindi potrebbe essere eventualmente rieletto per una terza volta mi conferma? sì ecco potrei ci sta pensando questa è la domanda rispetto alla quale sono meno preparato di tutti nel senso che io ho sempre ritenuto che si è concentrato giustamente su altro adesso però insomma è quasi arrivato il momento sì senza altro ecco adesso decideremo ecco nei prossimi mesi io ho sempre ritenuto che la gestione della cosa pubblica dovesse essere una parentesi una parentesi che ognuno toglie la propria vita privata il proprio lavoro per dedicarla alla comunità chiedo scusa una piccola parentesi tra l'altro nel momento dell'alluvione lei aveva una bimba veramente nata da poco per cui ha veramente tolto del tempo in quel caso alla sua vita privata esatto ecco questo è uno dei fattori che sta influenzando questo processo decisionale perché ecco io senza alluvione al netto dell'alluvione avrei tranquillamente lasciato perché dicevo ecco che poi ecco le fasi cicliche di gestione della cosa pubblica hanno bisogno di ricambio hanno bisogno di energie nuove di progettualità nuove è chiaro che però l'alluvione ha rimesso un po' tutto in gioco perché c'è qui non c'è da chiudere una buca o da tagliare un po' d'erba qui c'è da risistemare un paese ricostruire un paese quindi con delle strategie chiare che possano portare a terra tutto il lavoro di ristoro e di riqualificazione dei danni avuti però ecco rispetto a questa responsabilità che mi sento ed è inutile negarlo c'è poi una valutazione personale di un anno intenso che ha tolto tanto tempo agli affetti alla famiglia al lavoro e quindi ecco insomma stiamo componendo il quadro con l'aiuto di una squadra ecco amministrativa di amici familiare che mi è sempre stata vicino che insomma su cui ho potuto contare sia umanamente che amministrativamente e quindi ecco con loro andremo a decidere il da farsi mi auguro ecco entro l'anno di rassicurare anche i cittadini dando delle prospettive chiare rispetto alla continuità o meno del futuro amministrativo del paese che cosa vorrebbe innanzitutto per Cantiano io vorrei rivederlo come era ecco anzi meglio di come era io vorrei e questo è anche l'impegno di quest'anno anche nei confronti delle future generazioni ma anche nei confronti di mia figlia cioè ridargli quelle opportunità di vivibilità e di prospettiva di paese di cui noi abbiamo soffrito quindi ecco il mio sogno è che Cantiano un domani possa ricordare l'alluvione come un brutto ricordo possa riavere quella forza quella maggior forza e anche le condizioni al contorno di presentabilità urbanistiche per potersela giocare credo che la visibilità che ha avuto seppur negativa si stia traducendo anche in opportunità per il paese ecco noi continueremo le nostre battaglie che sono sempre battaglie oggettive nel merito delle questioni chi ci conosce sa che non ragioniamo per partito preso per ideologia ma siamo stati sempre nel merito delle questioni e i risultati che abbiamo portato in questi anni credo che siano sotto gli occhi di tutti e credo che siano ecco il biglietto da visita con cui ecco eventualmente potremmo anche ripresentarci non promettendo nulla ma solamente ecco raccontando quello che si è fatto e il grande sforzo della gestione emergenziale ecco che nessun altro amministratore nella storia del comune di Cantiano purtroppo ecco si è dovuto trovare a gestire sindaco grazie veramente per essere stato con noi grazie a voi grazie ancora al sindaco di Cantiano Alessandro Priccini un ringraziamento alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra buona serata a tutti ci rivediamo dopo alle 20 e 30 per il nostro telegiornale Occhio alla Notizia Grazie a tutti